32 gli avvisi di garanzia per violenza privata inoltrati per le proteste dei mesi scorsi davanti al magazzino di mondo convenienza a Campi Bisenzio in provincia di Firenze per impedire l'uscita delle merci. Questi avvisi riguardano in gran parte i lavoratori in appalto che come noto da tempo protestano per avere migliori condizioni di lavoro ma anche alcuni simpatizzanti che si erano seduti al loro fianco durante i picchetti. Secondo i Cobas c'è la tendenza a criminalizzare il diritto di sciopero. Il nostro codice, lo ribadiscono, non prevede reato di picchetto e per questo si parla adesso di violenza privata. Nonostante i proclami delle ultime ore, prosegue il sindacato, l'avvertenza non è conclusa. Nulla è cambiato rispetto alle condizioni contrattuali e alle posizioni dell'azienda. La protesta dunque continuerà per tutto il mese di agosto e, concludono i Cobas, con gli operai della ex GKN, è stata lanciata una campagna nazionale. Intanto, mondo convenienza, considera positivo il risultato raggiunto a valle degli incontri con le organizzazioni sindacali dello scorso 31 di luglio, con l'auspicio che questo confronto prosegua fattivamente nei già programmati appuntamenti di settembre. L'azienda, si legge nella nota, ha dato seguito concretamente alla sua disponibilità di agevolare il dialogo fra i propri appaltatori e di loro lavoratori verso una soluzione condivisa.